Secondo me è un punto guadagnato, anche perché alla vigilia della partita sapevamo che Bressanone ha fatto una squadra per non solo salvarsi, ma anche per arrivare ai play-off, secondo me. Noi quest'anno abbiamo avuto parecchi problemi, parecchi giocatori sono andati via rispetto all'anno scorso, quindi penso che per essere la prima partita contro una squadra forte in casa è un bel punto, potrà esserci utile. Da che cosa riparte Trieste in questa stagione? Ripartiamo da quelli che sono rimasti dello scorso anno, da Sergio Diego Crespo che sta facendo veramente bene, a parte oggi anche tutto il precampionato, e da tanti ragazzi che stiamo tirando su gradualmente. Bisogna dire anche Sandrin, un giovane che l'anno scorso ha giocato poco o niente, quest'anno è titolare in difesa, si sta comportando molto bene. Difatti al momento il nostro punto di forza è proprio la difesa, puntiamo tanto su questo e pian pianino sistemeremo anche l'attacco. Ecco, è un girone A dove Bolzano probabilmente è ancora una spanna sopra gli altri, sotto però si lotta e Trieste vuole esserci. Sì, Bolzano lo vedo sicuramente un gradino un po' sopra tutti. Per il resto vedo Pressano molto bene, bisognerà vedere questo nuovo straniero se è effettivamente così forte e per il resto ci saranno grandi partite ogni giornata. Sarà divertente, se questo è l'inizio penso che sarà da ridere fino alla fine. Pareggio alla prima di campionato su un campo difficile come Trieste, per com'è andata è un punto guadagnato o un punto perso? È un punto guadagnato, hai fatto una bella domanda perché siamo partiti male, abbiamo fatto una brutta partita. Il Trieste ha giocato molto bene, faccio i complimenti col cuore, loro sono molto rimaneggiati però in casa si sa che sono dei leoni. Noi dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio fra noi stessi, fra di noi e ci dobbiamo lavorare tanto perché siamo una squadra nuova e speriamo che il primo possibile arrivi questo. Ecco, Brestanone però non può nascondersi, la campagna estiva è stata importante, sei arrivato tu, è arrivato Basici, è arrivato Castro, un allenatore importante dall'Austria. Brestanone vuole arrivare in alto, vuole provare a mettere in difficoltà Bolzano? In questo momento Bolzano forse è un altro pianeta, però bisogna sempre sperare e lavorare per questo. Siamo una squadra ben fatta, non siamo una brutta squadra, però bisogna lavorare tanto sul campo e non con i nomi perché con i nomi non si fa niente. Sicuramente il girone nord è equilibrato come ogni anno, vedo sicuramente Bolzano e poi una fra noi, Pressano, Merano, Cassano, chissà, forse Malo. Il girone B è un po' più scarso rispetto agli altri sinceramente, però vedo Bologna, Cingoli che lavorano bene, vediamo il Cologna di Cocuzza cosa può fare. E giù il solito Fasano, con Versano è diventato una gran bella squadra, è tornato Bearevic e Siracusa ha fatto un bel roster, quindi sarà una lotta a tre sicuramente.